cari amici ho bisogno di un vostro consiglio e un vostro aiuto vi spiego tutto subito dopo la sigla buonasera amici e bentornati qui siamo al salottino blues ed io sono paolino come vi ho detto in presigla ho bisogno proprio di voi questa sera un vostro consiglio e un vostro aiuto prima però vi chiedo di iscrivervi al canale mettere un bel like e non dimenticate la campanellina bene adesso però parliamo di questa cosa io e il mio socio massimiliano ormai sapete che massimiliano parte del salottino blues stiamo pensando di andare in live una volta ogni 15 giorni più o meno però la cosa che ho bisogno che voi mi aiutate è di capire l'orario in cui dovrei andare in onda in maniera tale che voi potreste seguire più facilmente questa serata al salottino gli argomenti chiaramente saranno sempre sul blues ma che tipo di argomenti vi piacerebbe trattare in live musicisti strumenti musicali storie del blues insomma vorrei fare qualcosa insieme a voi e creare proprio questo salottino un punto di ritrovo del blues è venuta in mente questa cosa perché pochi giorni fa sono stato chiamato da radio canale italia per un'intervista che andrà in onda in questi giorni poi la presenterò anche sul salottino e appunto mi hanno chiesto qui al salottino che cosa facciamo perché è stato creato il salottino blues e allora ho spiegato che cos'è il salottino blues e perché ha voluto far nascere il salottino blues è un ambiente che io vorrei far crescere ancora di più però insieme a voi quindi maggior ragione questo video è per chiedervi dei consigli come possiamo fare visto che è appunto un salottino e voi che siete gli iscritti del salottino blues fate parte di questo posto meraviglioso quindi attendo qui sotto nei commenti le vostre idee cosa possiamo fare che cosa volete dal salottino blues questa serata live come volete interagire nel salottino blues e se qualcuno vuole essere intervistato al salottino blues come avete visto l'ultimo lunedì del mese intervistiamo sempre musicisti o artisti o personaggi che vivono nel mondo dell'arte e della musica scrivetemi nei commenti oppure scrivetemi sul salottino blues sul gruppo di facebook beh insomma voi che cosa ne pensate di andare in live col salottino blues mi piacerebbe proprio saperlo e noi stiamo coltivando appunto questo format questa nuova idea per essere ancora più vicini col salottino e voi spero vi faccia piacere questa nuova idea e chissà magari ristringe un attimino anche questa lontananza che c'è tra noi e voi perché è un canale youtube non siamo proprio a contatto qui fisicamente ma vi piacerebbe fare almeno una serata in live e scambiarci le idee sul mondo del blues bene noi ci vediamo lunedì prossimo qui al salottino nel frattempo attendo le vostre idee per metterle poi in pratica questo mese luglio a fine mese l'ultimo lunedì di questo mese ci sarà un ospite molto molto famoso molto molto bravo brava che da quel tocco in più al salottino blues non mancate lunga vita al blues amici buona serata